l'argomento. Senta signor Maresciallo, mi perdoni, vero? Venne lei con la scorta il lunedì 9 settembre alle ore 3.30. Venne in casa mia dicendomi dove è stato Pacciani ieri sera dopo pranzo e io scitai con la famiglia a Cerbaia alla festa dell'unità, ma non per il partito. Insomma poi la mi perquisì la casa oltre a queste domande. Ma non quel giorno lì. Era lei con la scorta con due suoi colleghi, io non so chi siano comunque. E io mi trovavo laggiù perché mi fu. Ascolti facciani, faccia parlare me. Quel giorno no no, è pure in piedi, così vediamo quanto è altro tra l'altro. Ci dica un po', quel giorno stesso le fece queste domande e le fece la perquisizione? Come hai detto? Il giorno stesso le fece le domande e la perquisizione? No, sì, quel giorno 9 settembre alle ore 3.30. Ma che 9 settembre? Venne anterogami il signor Maresciallo qui dell'Odato, con altri due suoi colleghi, dicendomi, dice dove era lei dopo pranzo, dice ieri sera. E poi le fecero la perquisizione? Sì, dopo ho fatto questo discorso mi disse permette si fa una piccola perquisizione. La mia casa è a sua disposizione, gli disse apri tutte le porte. È il 19 settembre, non il 9. No, il 19 è un'altra faccenda. Il 19 è un'altra faccenda della lettera anonima, di quella che dicevano che tenevo la famiglia chiusa, invece la chiave era dentro la casa. Quella è un'altra faccenda, in 9. Anzi, io rimassi soppreso, gli domandai qui al signor Maresciallo, ma che cos'è questo interrogatorio, questa perquisizione? Mi disse una formalità non è solo, non è il solo. E ci scusi, hanno detto mia. Ecco, questa è la sincera verità giurata davanti a Dio. Diciamo, cercamolo insieme e ha fatto il male, perché non deve pagare l'innocente per il peccatore. Io sono un paro padre di famiglia, non ho fatto di male a nessuno, ho voluto bene a tutti, nel mondo. Cosa vengono a cercare un disgraziato di 70 anni, ho sempre lavorato, andavo da Gazziero, la si ricorda, a quella fattoria. Ho sempre lavorato una vita antera, io volevo bene a tutti. Chi c'era dei carabinieri? Dei carabinieri, c'era due suoi colleghi, io non so come si chiamano, non lo so. Chiediamo al Maresciallo Lodato dove era alle 15.30 o alle 14 del giorno 9, così chiudiamo. E questa è la domanda. Ma che è che l'ha detta alle 14? Non andiamo a cercare le frottole. Io ho detto alle 3.30, non alle 14. Ma che si cerca di imbrogliare le acque qui. Diciamo la verità, Dio buono. Lo cerco anch'io, stai l'ha fatto in male. Io soffro me loro fuori a gente. Io lo faccio in male. E ora calma tutti. Perché tanto la circostanza da accertare è talmente banale e semplice.